Beh, finalmente ho rivisto lo spogliatoio pieno. Naturalmente chi era stanco ha fatto soltanto bagni e massaggi, un po' di cure, per cui oggi li rivedrò tutti in campo. Però insomma, li ho visti belli propositivi e questa è la cosa più importante. Di reazione si aspetta dopo quelle parole? Beh, naturalmente se ho fatto una comunicazione forte mi aspetto una risposta forte. Un allenatore non fa nulla per nulla. Per cui mi aspetto da giocatori importanti, da giocatori che giocano nella Roma, una grossa risposta di carattere e di personalità. Per me Robin è un buonissimo portiere. Mi è piaciuto prima che venisse alla Roma, già lo seguivo, per cui ha la mia fiducia. Io credo che questa squadra abbia le potenzialità per lottare, per entrare in Champions League. Ci sono altre squadre davanti a noi e dietro di noi che spingono forte. Per cui io mi auguro che i miei giocatori riescano a reagire, a reagire forte ad ogni avversità che si sta preannunciando o che ci siano state. Il fatto di Sharawi e Dzeko è un fatto normale, uno scazzo normale che avviene in ogni famiglia, per cui è tutto a posto e questa è la cosa più importante. Il rapporto tifosi-squadra a Roma è tutto, lo è sempre stato e lo sarà sempre. Io l'ho sempre detto, l'ho sempre pensato, cambiano i giocatori, cambiano gli allenatori, cambiano i presidenti. Ma il tifoso resta. Il tifoso resta con amore, con passione. Il tifoso romanista è passionale. E lo dico sempre alla squadra, il tifoso a Roma vuole vedere che tu dai tutto sul campo, poi se sbagli viene anche accettato. Per cui è quello che chiedo sempre alla squadra. Dai tutto perché i nostri tifosi capiscono che tu stai dando tutto. Per cui i nostri tifosi sono la nostra arma in più. Sono la nostra arma in più che ci possono dare veramente quella fiducia, quella consapevolezza nei nostri mezzi. E soprattutto quando c'è un errore, è lì che il pubblico deve incoraggiare. Perché stare su una piazza importante come Roma, sapere di aver fatto un errore, un passaggio sbagliato e tutto, con il pubblico che ti rumoreggia, è un altro colpo che tu hai. Per cui spero che i nostri tifosi capiscano questo momento psicologico della squadra e ci stiano dietro con fiducia e con amore. Loro naturalmente sono abituati a giocare con il 4-3-3, per cui i due esterni fanno un certo tipo di lavoro. E con il 4-4-2 ne fanno altri. Per cui io già avevo parlato con El Sharawi prima e gli avevo chiesto determinate cose come quarto di sinistra. Non facendole e avendo già in mente di mettere dentro Perotti, ho fatto il cambio. Ma è stato un cambio tattico e non è dovuto alla discussione che hanno avuto.